Ve l'avevo promesso e l'ho fatto Ciao tutti i casi e benvenuti su questo video Anche la vostra è qui, quindi Qualsiasi non mi dico inca Eh, oh, sta bene Oggi come la fanno vi faccio vedere una canzone E poi, questa canzone, ecco giù Questa cosa di Dagen Messe Eh, che si chiama One, two, three I don't need a song Adesso, non so se sentite E buona cucina E si chiama, adesso Faro quick, quick, repeat La canzone E' questa che si chiama Quanti tutti gli altri Mi scherzo Adesso fanno qualche canzone Quindi la gru Buona questione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti